Amiche e amici di Rossini TV, siamo a gradare all'interno del Palazzo Rubini-Vesin, MARV, Museo d'Arte Rubini-Vesin, come è da nuova denominazione, per la presentazione alla stampa di una mostra che si aprirà l'11 di febbraio per restare aperta fino al 21 maggio. È la mostra dell'incisore Raffaello Schiaminossi, andremo a farvi conoscere di chi si tratta attraverso la viva voce dei protagonisti, degli allestitori, dei curatori, di tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa importantissima manifestazione per Gradara, per tutto il territorio e diremmo anche per tutta Italia. È una mostra che nasce dalla collaborazione, oltre che con collezionisti privati, anche con importanti istituti nazionali e internazionali, in particolare il Museo Civico Piero della Francesca e il Comune di Sansepolcro, che l'hanno prodotto assieme con noi, e l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Quindi si tratta veramente di una mostra di rango e di interesse europeo che arriva qui a Gradara riportando nelle Marche un artista come Raffaello Schiaminossi che nasce a Sansepolcro ma che poi valica l'Appennino e che porta nelle Marche alcune delle sue opere più importanti, in particolare le pale d'altare di Sant'Angelo Invado. La mostra raccoglie più di 150 incisioni che rappresentano una gran parte del corpus prodotto da Raffaello Schiaminossi tra il 1600 e il 1620 circa. Illustrano tutte le caratteristiche e le tipologie della sua vastissima produzione che va dai soggetti sacri ai soggetti di tema mistico alla rappresentazione del panorama naturale e del paesaggio a, e questa è un po' la chicca, la parte più interessante della mostra, la rappresentazione delle armi e degli spadaccini. Si tratta quindi di un artista del passato che però è anche un artista contemporaneo e che speriamo il pubblico di Gradara e delle Marche vorrà venire a scoprire in prima persona nelle sale del rinnovato Palazzo Rubini Vesini. Vedere finalmente questo palazzo che è nel cuore, sono stati di Gradara nel cuore anche degli abitanti perché era sede comunale fino al 1992, è rinato e riportato così in auge grazie a questo bellissimo, ottimo lavoro di riqualificazione portato avanti dall'architetto Bruno Mariotti e dall'allestimento dell'attuale mostra su Schiaminossi realizzato da Gradara Nova e da Luca Baroni e dal suo precedente, fa davvero bene al cuore e sono sicuro che diventerà un luogo di aggregazione, un luogo di produzione culturale e che farà bene sicuramente al turismo ma soprattutto quello a cui noi teniamo e anche che abbia un riflesso positivo nella nostra comunità per inorgogliere ancora di più chi abita qui a Gradara e dire abbiamo anche un museo all'altezza dei più prestigiosi musei d'Italia.